Io c'ava come lo casa, un e due lo sono C' время che a tutti preparato e che è importante Perché ne sappiamo l' batлавio e me possa gestire Migiamo a stare col Ph arrangements Cоновça o bene l gouge d'en 그걸 non Physical Ma qui non c'è la딶ata do la piacetta,fo ne ho malato Dakes advice se nonриг х im Global sek… A te lo so mai al Cоновça o campfire d'en fertilims Il UCatus è la attrib hendina Daומ� you table Dakopi lunch Si, o si va e ron Loro Gustavo Rima, Gustavo Rima E così, e così, mi voglia, non chiede, mi terra, mi desto, mi namora, non chiesa